No, ma io a parte quello mi sentivo bene, ho avuto qualche occasione, ho fatto un altro tiro fuori. Sapevo che comunque se arrivo davanti al portiere, anche come è successo a Vicenza, prima o poi il gol arriva, quindi non devo mai demordere. Non devo buttarmi giù quando succedono quelle cose, infatti poi sono stato ripagato. E' stato ripagato segnando il gol più difficile rispetto al primo. Sì, evidentemente sono fatto per quei gol io. Non lo so, quando mi trovo davanti al portiere cerco sempre di fare il meglio che posso. Però questa volta ho fatto gol di testa e sono contento per questo. Al di là dell'occasione fallita e del gol, però soprattutto il primo tempo ha giocato sulla linea del fuorigioco della Triestina. Tipici movimenti di una prima punta, rispetto a quando sei arrivato è un zecca diverso? Sì, sì, io sto seguendo molto i consigli del mister perché con le doti che ho mi dice di stare più sulla linea difensore per attaccare meglio la porta avversaria, perché quando mi tiro un po' indietro faccio un po' fatica, essendo tecnicamente non bravissimo. Quindi diciamo che devo migliorare su questo perché oggi è andata bene, comunque ho giocato in quella posizione e devo fare così anche le prossime partite. L'esultanza sotto la tribuna, quel saluto militare ce lo descrivi un po'. Sì, il saluto è per una persona che purtroppo non c'è più e volevo ringraziarlo perché mi è stato sempre vicino finché ha potuto, quindi è per quello. Adesso a Terni si va con un altro spirito? Si va con un altro spirito, abbiamo messo tre punti in saccoccia e dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili anche da Terni.